martedì 19 marzo buongiorno amiche buongiorno amici bianconeri bentrovati qui sul canale e soprattutto a tutti i papà di questo canale ma non solo ovviamente tantissimi auguri per la festa del papà e un augurio ancora più speciale ovviamente al mio di papà contenuto di quest'oggi dedicato alla rubrica tre gran risposte la rubrica che dà spazio a voi con le vostre curiosità per partecipare ormai chi mi segue da tanto tempo lo sai per i nuovi iscritti dovete inviare una mail a grammobianconero chiocciola gmail.com che trovate qui sotto in descrizione a ricevimento di tre email contenute contenenti le vostre curiosità realiso video tre gran risposte e quindi non c'è che una cadenza regolare la cadenza è determinata ovviamente dalla vostra partecipazione che ovviamente non può che farmi piacere vi ringrazio e comincio comincio con corrado caporali ovviamente che ringrazio per essere un diciamo costante partecipante alla rubrica buongiorno luca questa volta la mia domanda sarà breve con il passaggio decisivo al mondiale per club come cambierà il mercato bianconero sia per eventuali acquisti e rinnovi leggermente spinosi chiese a vlachovic su tutti grazie e come sempre complimenti per i traguardi raggiunti e da raggiungere corrado caporali allora intanto ti ringrazio per il messaggio per i complimenti con il passaggio deciso al mondiale per club è chiaro è chiaro ed evidente che la juve dovrà allestire una squadra che possa essere competitiva quanto più possibile e quindi sicuramente anche grazie a quelli che saranno gli introiti proprio da mondiale per dalla partecipazione mondiale per club oltre attendiamo perché ancora qui dobbiamo andarci con i piedi di piombo la situazione sia un pochino ingarbugliata la juve ha fatto veramente l'impossibile per complicarsi la vita però è evidente che il mercato è subordinato alla partecipazione alla prossima champions league che in questo momento non è in discussione però è evidente che con sette punti nelle ultime otto partite ne mancano ancora nove se questo è il ruolino di marcia altro che se verrebbe messi in discussione quindi il mercato è legato certamente alle conquiste ai piazzamenti alle partecipazioni alle competizioni UEFA e FIFA quindi champions e mondiale per club non c'è dubbio per quanto riguarda diciamo risponderti nello specifico su come cambia tra il partecipare e non partecipare beh qui obiettivamente non sono in grado di darti una risposta quello che posso dirti è che la juventus soprattutto cristiano giuntoli sta lavorando per creare un pochino una squadra a più suo uso e consumo più vicina alle sue idee quindi cambio dell'allenatore in panchina squadra con un gioco più propositivo e in tal senso quello che è accaduto a Napoli secondo me saranno avrà delle analogie con quello che lui volerà riproporre che non significa riproporre il modello Napoli alla Juve perché sappiamo che certe cose non vanno fatte perché sono uniche non sono ripetibili però il concetto di calcio sicuramente proverà in tal senso a riproporlo nel senso che io continuo ad avere la netta sensazione oltre che qualche informazione che ci sarà un cambio sulla panchina e il nome di Tiago Motta non è stato fatto a casa è stato fatto più di un sondaggio è l'obiettivo numero uno dichiarato per la panchina futura della Juventus nella prossima stagione quindi un allenatore con un credo calcistico sicuramente diverso con un allenatore che sia in grado di valorizzare al meglio il materiale messo a disposizione a questa Juve manca un giocatore diciamo leader del centrocampo manca un pochino sugli esterni quindi lì secondo il mio punto di vista la Juve andrà ad operare poi è evidente se il mercato dovesse richiedere una possibile cessione di un pezzo chiamiamolo da 90 comunque con un giocatore importante beh attendiamoci eppure anche dei risvolti che oggi non sono contemplati ma che si potrebbero sviluppare intanto però la cosa fondamentale è cercare di rimettere la barra dritta in questa situazione che non è per nulla simpatica veniamo alla seconda domanda quella di Antonio Belisario buongiorno Luca volevo porre la semplice domanda dato che la Juve sta cominciando a valutare in conseguenza della stagione deludente l'esonero di Allegri che ne pensi come possibile sostituto come allenatore il nome di Fabio Pecchia grazie per l'eventuale risposta allora Antonio intanto diciamoci subito chiaramente che a me non risulta che la Juve stia valutando l'esonero anche se notizia fresca fresca di ieri un qualcosa mi è arrivato che certe valutazioni si stiano facendo per capire se l'impatto economico sarebbe sopportabile o meno io ci credo poco lo dico molto francamente non credo ad un cambio in corsa anche se come vi ho detto l'auspicio è che possa essere dato uno scossone perché io penso che siamo entrati in un loop dove qualcosa deve essere fatto per per risollevare questa situazione che si è messa particolarmente difficile ma non usciamo dalla risposta la risposta è il nome di Fabio Pecchia non mi risulta e se mi chiedi cosa ne penso non conosco bene Fabio Pecchia da un punto di vista delle sue capacità di allenatore nonostante sia uno di quegli allenatori che poco reclamizzati poco menzionati ma ha già fatto della gavetta che ne ha fatta tanta e quindi sicuramente potrebbe essere un allenatore con un pedigree pronto per poter fare un'avventura di un certo livello magari in una prima squadra di un certo livello solo il campo potrebbe darci la risposta io ti posso dire che è un allenatore sotto contratto è un allenatore che sta guidando il Parma alla promozione in serie A e quindi non ritengo sia una cosa fattibile anche perché come ho detto prima il nome numero uno sulla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Tiago Motta veniamo all'ultima domanda che è quella di un utente ah sì stavo dicendo non si firma invece sì ciao Luca mi chiamo Duca Maurizio quindi ciao Maurizio è la prima volta se non sbaglio che tu partecipi a altre grandi risposte grazie anche a te per aver accettato l'invito delle volte scorse di parteciparvi seguo sempre i tuoi video volevo farti una domanda siamo sicuri che tutto quello che succede alla Juve sia imputabile ad Allegri o è colpa della società se esiste una società che non gli ha dato i giocatori giusti per affrontare questo campionato mi pare tolti quei 3-4 tutto il resto è poca cosa rispetto alla rosa delle altre squadre grazie beh allora in questo momento dare un giudizio sulla rosa della Juve è fin troppo ingeneroso perché è evidente una Juventus che sta performando come sta performando questa Juventus con sette punti nelle ultime otto non facendo risultato contro squadre come Genoa come Udinese come come Empoli come Verona è ovvio è ovvio che la risposta sembra venire da sé però voglio ricordare anche le prime 19 partite nelle quali furono fatti quei 46 punti di cui ha parlato Massimiliano Allegri beh credo che un po' tutti o in tanti non tutti un po' in tanti non dico c'eravamo illusi ma sicuramente avevamo una percezione diversa di quella che era la rosa della Juve io non ho mai ritenuto questa rosa una rosa così scadente non ho mai ritenuto questa rosa la migliore della serie A nemmeno la seconda migliore rosa della serie A ma ho sempre detto con questa rosa Allegri ha il dovere morale di arrivare fino in fondo a lottare per lo scudetto che non significa vincerlo ma significa tenere a perdere il campionato beh direi che mi ha clamorosamente smentito ma penso che la rosa stia altamente sottoperformando perché è entrata anch'essa in un lupo negativo forse per dissidi interni forse perché non è più in sintonia con l'allenatore posso posso dirti che sicuramente ci sono giocatori che sono da Juve poi ci sta che la rosa sia costruita in maniera non omogenea che ci siano elementi che magari non siano perfettamente complementari tra di loro però non dimentichiamoci che anche oggi la Juve ha mandato 13 giocatori in giro per il mondo con le proprie nazionali il che significa che la Juve ha una rosa di giocatori sicuramente da Juve sicuramente competitivi per lottare per i massimi livelli quantomeno in Italia perché se sei un nazionale è ovvio che insomma hai uno status e hai una qualità superiore a quella di tante altre rose che invece di nazionali ne hanno molti meno o addirittura non ne hanno detto questo sicuramente la rosa della Juve deve essere migliorata sicuramente come ti dicevo ci sono probabilmente giocatori che pur essendo dei nazionali mal si sposano o forse mal si diciamo adattano a quello che è il concetto di calcio che in questo momento vuole esprimere per atteggiamento tattico l'allenatore le colpe non sono tutte di Massimiliano Allegri non c'è dubbio perché quando ci sono delle situazioni come quelle che sta vivendo la Juve le responsabilità vanno suddivise tra società allenatore e giocatori è ovvio che non possono pagare 23 24 giocatori paga l'allenatore sul fronte società mi sono già espresso non c'è al momento alle spalle di Massimiliano Allegri e della squadra una società forte tolta la figura di Cristiano Giuntoli e dei suoi collaboratori mi sembra che la proprietà abbia troppo troppo dato un input preciso vogliamo ottenere questo risultato fai quello che ti pare ma questo è il risultato che vogliamo ottenere e questo ovviamente de-responsabilizza la proprietà incaricando il mandante il mandatario che appunto Cristiano Giuntoli di eseguire quelli che sono i voleri della proprietà questo significa il non avere poi una società presente forte alle spalle che interviene che fa dei comunicati che ci mette la faccia con una figura di riferimento che può essere quella di John Elkan nello specifico come lo è stato in passato magari quella di Andrea Agnelli ancora prima poi del dottore e dell'avvocato e quindi di conseguenza se non hai una società forte alle spalle c'è tutto un susseguirsi di situazioni che portano ad avere questi problemi che poi quando si infilano male si scatenano e si amplificano molto più di quello che sarebbe se alle spalle l'allenatore avesse che pure alle sue colpe sia chiaro avesse una società forte questo è il mio pensiero adesso lascio spazio ai vostri commenti ma soprattutto vi invito se volete partecipare alle tre grandi risposte a scrivere una mail a grambobianconero.com chiudo con l'invito come di consueto a iscrivervi al canale azionando la campanella delle notifiche e magari mettendo un bel pollicione verso l'alto in fondo a questa puntata ci sentiamo presto come sempre fino alla fine ciao